Scommetto che riesco a fare mille piegamenti prima che tu riesca a fare un giro di pista Forse ti piace molto perdere, Kim Pronti? Partenza, via! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Marco, la tua formula sta per rivoluzionare la scienza, sei un genio! Sono solo ben programmato, cara signora d'upocal Tredici, quattordici, pedone in F4, scacco matto, andrei Incredibile, è vinto ancora, Marco Urgente, vediamoci alla Gardio Nord da sole Fammi indovinare, Marinette è in ritardo Eh, no, era mia madre, devo andare da lei da sola Ok Marinette, non cercare di scappare So che mia sorella può risultare difficile, ma se io sono sopravvissuta a un'infanzia intera con lei, tu puoi sopravvivere un weekend Mamma, ho solo tanto bisogno di un abbraccio d'Alia, è la mia migliore amica, lo sai Va bene, ma fa presto, il treno sta per partire Non abbiamo scelta, Tiki Andrà tutto bene, Marinette Non puoi partire, che facciamo se c'è un super cattivo e Ladybug è a Londra? Beh, faremo... così Cosa dovrei farmene di questi? Se tutto va bene, niente, altrimenti Ladybug e ricordati di nutrire Kwami Il treno numero 6 per Londra sta per partire Chiama se ci sono problemi Ehi, ciao Kwami! Chi è Ladybug? Questo weekend l'ha qui presente Come se bastasse per aiutarti a proteggere Parigi È più prudente così, Trix! Aspetta, non posso essere Ladybug Ah, visto? Marinette, Ladybug mi serve un altro nome da supereroe come... Capitan Bug o Wonderbug, no, meglio ancora, Superbug! Oh, wow, un super nome Superbug! Ora devi solo stare super attenta tutto il tempo, tenere tutto super segreto, prendere tutto super sul serie e non fare un super caos Marinette non è solo Ladybug, Alia, è anche il guardiano dei Miraculous e se il guardiano si fida di te significa che sei la più adatta Gne, gne, gne Hai ragione, Tiki, ma vedrai che non ce ne sarà bisogno perché sarà un weekend sereno e tranquillo Sì, certo, super tranquillo Ok, posso farcela Sta bene, tua madre? Mia madre? Oh, sì, certo! Mia madre sta super bene, voleva solo darmi qualcosa di super non noioso e super... Alex, tutto bene? Niente emozioni negative, spero? Sta bene, e per le emozioni negative chiedi a Kim, è lui che ha perso Come ti senti, Kim? Non troppo triste? Non ho ancora perso, ci sono tre round in questa gara, Max, Markov, pronti? Super! Ma ricordate, non si tratta di vincere o perdere, giusto? Ciò che conta è non farsi male, preoccuparsi o arrabbiarsi Sei sicura di stare bene? Sì, sì, è tutto super! Mia madre sta super bene dal momento che tutti sono super bene È tutto super! Tu, come stai? Super, suppongo Suggerimento 33, se Chat Noir fa una battuta, ridi, anche se non è divertente, lo rende felice Possiamo pranzare, ma non dobbiamo restare per il dolce Portiamo noi il dolce Non significa che dobbiamo mangiarlo Lo possiamo lasciare da tua sorella e andare al museo solo noi tre A lei non piacciono neanche i musei Non le piacciono nemmeno le torte Suggerimento 34 Axan si comporta come un virus informatico Questo network aiuterà il sentimostro a trovare la sua preda Perfetto Molotov Noi